L'attuale restauro è iniziato nel novembre 2014. La tavola era collocata nella cappella Martelli, committenti del dipinto, posta nel transetto sinistro della chiesa. Dal loro palazzo, la famiglia poteva accedere attraverso il chiostro direttamente alla cappella tramite un passaggio che è stato reso fruibile dopo il restauro del dipinto. Il lavoro ha preso avvio con il complesso smontaggio della pala dalla parete e con l'imballaggio delle singole parti. La tavola, la cornice e la predella da cui è stato tolto il vetro di protezione, troppo fragile e pericoloso durante il viaggio sul camion. L'opera, quindi, è stata trasportata nel laboratorio di restauro, dove è rimasta per un anno e mezzo. Il restauro vero e proprio è stato preceduto da una serie di indagini scientifiche, tra cui l'analisi a luce ultravioletta, dalla quale è emersa una pesante alterazione della vernice e dei ritocchi eseguiti nell'intervento conservativo dei primi del Novecento. La prima e fondamentale fase del restauro è stata la lunga e complessa pulitura della superficie dipinta. L'operazione è stata condotta assottigliando, con opportuni solventi organici, la precedente vernice alterata, differenziando le zone a seconda delle necessità cromatiche e armonizzando gli effetti di luce che il pittore aveva realizzato. Nel corso della pulitura, pulendo la parte centrale della colonna, sembrano confermati i dubbi che il supporto sia nato diviso in due parti e in un secondo tempo riunito, proprio usando questa commettitura centrale, perché in effetti, rimuovendo la vernice ingiallita, al di sotto si trovano stucchi e ritocchi, proprio lungo la commettitura al centro della colonna, che sembrano stati messi proprio per camuffare un'eventuale divisione. Le indagini preliminari, non distruttive, hanno evidenziato che gli azzurri usati nel dipinto sono tutti a base di lapislazuli. L'unica campitura che si distacca dalle altre è questa dell'azzurro all'interno della finestra. La pulitura ha confermato in effetti che si tratta di un azzurro, di un rifacimento più tardo, dove non è stato utilizzato il lapislazuli. Tra i danni più gravi trovati sulla superficie pittorica ci sono quelli provocati dalle bruciature di candela che illuminavano l'altare. Tra le più brutte questa, localizzata sul viso dell'angelo, un'altra sotto il pergolato, sul fondo, nel giardino, e questa sopra la mano della Madonna. Il viso della Vergine presenta molte abrasioni che lasciano intravedere il verde di base al di sotto dei toni rosa del carnato e questo invece probabilmente è dovuto ai passati interventi di pulitura. Al contrario, il volto dell'arcangelo Gabriele è molto ben conservato e conserva ancora tutti i passaggi tonali. Lo stesso metodo di pulitura è stato applicato alle scene con la vita di San Nicola dipinte nella predella. La rimozione delle numerose ridipinture ha consentito di trovare numerosi piccoli danni della pellicola pittorica, ma soprattutto di confermare la presenza di una mano differente nell'ambito della bottega dell'Ippi, probabilmente di un suo aiuto. Sulla cornice della predella, al di sotto della doratura ottocentesca, sono state ritrovate tracce della doratura antica, confermando così l'autenticità della cornice stessa. I problemi conservativi del dipinto coinvolgevano in particolare la struttura linea. Nel corso dell'intervento novecentesco, infatti, sul retro della tavola erano state applicate tre traverse di metallo che con il tempo si sono rivelate troppo rigide, limitando eccessivamente i movimenti del legno e causando la grave fragilità della pellicola pittorica. Le tre traverse metalliche applicate nel precedente restauro sono state rimosse incedendo i naselli linei che le trattenevano al supporto. Appena rimosse le traverse, il tavolato ha assunto un profilo convesso, quindi si è incurvato e questa curvatura sarà il nostro riferimento per la costruzione del nuovo sistema di sostegno che terrà appunto la tavola non più costretta in piano, ma seconderà il profilo naturale che ha assunto nel corso del tempo. Dopo la soluzione dei problemi strutturali è stato possibile procedere nel lavoro, effettuando la fermatura del colore e la stuccatura a gesso e colla delle lacune in gran parte provocate dalle numerose bruciature delle candele che in passato illuminavano l'altare dell'annunciazione. Il restauro pittorico è stato condotto secondo criteri moderni, ma impiegando tecnica e colori analoghi a quelli utilizzati dal pittore. Ad esempio, le lacune sugli incarnati sono state prima preparate con una base verde e successivamente velate con il rosa, secondo il metodo usato nella pittura del tempo. Il restauro ha consentito di restituire al dipinto quei valori di luminosità e rigore prospettico ricercati dal pittore e di recuperare l'equilibrio armonioso con la predella che aveva subito nel tempo danni maggiori. Al termine del restauro, la grande pala di Filippo Lippi è stata nuovamente posta sull'altare della cappella, per la quale è stata realizzata su volontà di Niccolò Martelli. Grazie. 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 Grazie.